Allora venga che le faccio vedere l'appartamento veloce che ho molto da fare, va bene? Con permesso, buongiorno. No, perché io queste cose di solito non le faccio, ma il mio agente era impegnato, mi tocca farlo a me, hai capito? No, signora, quello è l'ultimo dei problemi, davvero, no, no. Ebbene, questa è la cucina, come vede qui c'è il frigo, è un po' rotto, un po' data, un po' ma è funzionante però, hai capito? Allora, oh, c'è un po' di ghiaccio, eventualmente volesse fare degli aperitivi con le amiche, che voi giovani vi piacciono tanto, hai capito? Ebbene, abbiamo un fornetto, ecco, se si vuole fare quei cibi surgelati, così fa presto, esce, studia, rientra, fa, hai capito? Lei dice, la cucina c'è il lavello, venga a vedere. Ma veramente io cucino sano, verdure, cucino, cioè non è che mangio cose surgelate. Ecco, questo è il lavello, come vede, hai capito? È un po' stortino, però come non si apre molto, ma va bene, non si preoccupi che poi uno si adatta, hai capito? Poi, ah, ma venga che le faccio vedere il bagno, ecco, come vede questo il bagno, non si spaventi perché comunque funziona tutto. No, chi si spaventa? Peggio di così non credo che può essere. A volte no, ma a volte, ecco, riesce comunque a lavarsi, a volte riesce a tirare l'acqua, ma ecco, siete giovani, vi adattate, insomma, non mi faccia perdere il tempo con queste cose, va bene. Allora, allora, venga che le faccio vedere la camera da letto, è un po' piccola, ah, non si spaventi, c'è un suo conquilino che dorme, buongiorno, un attimo solo che andiamo via subito. Ah, scusa, mi vado via subito, è che, ecco, l'armadio c'è, c'è un po' di muffa, potrebbero venire qualche allergie, ma niente di che. Allora, senta, lei signora quanto chiede per questo appartamento? Beh, questo è un appartamento da 1000 euro, non scherziamo, poi diviso 10 persone, che siete? Come 10, signora, dove ci mettiamo? Sì, sì, 10 persone, io le metto se permette, allora, vi viene 100 euro a testa, capito, non è tanto rispetto agli appartamenti che ci sono in giro a Milano, guardi che conveniente qui da me, eh, assolutamente. Sì, se lo dice lei, va bene, signora, senta, facciamo così, ci pensa un attimo. Ci pensa? Ah, va bene, va bene. A me sembra una condizione umana questa, va bene. Che cagotto, porco... A me sembra una condizione umana questa, va bene. A me sembra una condizione umana... Grazie a tutti.